Luca lavora in miniera per 12 ore al giorno. Quando Luca torna a casa è così stanco che non ha voglia di giocare, di parlare, non ha voglia di niente. Per Luca il lavoro più che una soluzione è diventato un problema. E la sola cosa che Luca ha voglia di fare quando finalmente la giornata è finita è dormire. Buonanotte Luca. Grazie a tutti.